Buongiorno a tutti, sono Luigi Genovese, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Balotto. Ho il piacere di invitarli agli Open Day di sabato 14 e sabato 21 gennaio 2021. In tale occasione vi sarà la possibilità di conoscere la nostra scuola dell'infanzia e la nostra scuola primaria, sia gli ambienti, i laboratori, ma in particolare i docenti, che è il nostro pezzo forte. I docenti sono molto bravi sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria e che coinvolgono i bambini in tante attività, oltre che curriculari, anche extra-curriculari, perché sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria si fanno tante attività di arricchimento dell'offerta formativa, quali sono progetti bond, progetti monitor, eccetera. I laboratori sono presenti in tutti i vari flessi, in particolare ci sono laboratori di scienze, di musica e di informatica. Da quest'anno siamo la scuola dedicata a quale cento training per poter conseguire la certificazione linguistica inglese. I bambini vengono preparati a questa iniziaria perché siamo dotati di un laboratorio linguistico portatile e quindi vi è la possibilità di poterlo utilizzare in tutti i flessi e in tutte le auge. Abbiamo aderito a tattissimi pure progetti di relazione motore con il CONI, con l'USR in Sicilia, e quindi vi è la possibilità di curare oltre che allo studio anche l'attività fisica che è molto importante per i nostri bambini, questo sia alla scuola dell'infanzia che per la scuola primaria. Quindi vi aspettiamo numerosi ai nostri attendee di sabato l'offerta, sabato il 21 e il 21 e il 2023. Chiamo Ampia, preguetto la scuola dell'infanzia dell'incipalotta, oggi un cuore amico, nonno bello, nonno bravissimo, la mia scuola è bellissima, tutta colorata, a cuore amico, facciamo tantissime attività, disegnare, colorare, cantare, tantissime poesie e tante belle storie. Ho conosciuto anche tantissimi amici che ora non lasciare, perché il prossimo anno andrò nell'acquola primaria, e mi raccomando bambini a venire tutti nella scuola dell'infanzia dell'incipalotta. Ciao, sono Melania, una bambina di Quinta e del comprensivo Valotta. Non conoscevo questa scuola, ma sono felice di averla scelta. Insegnati disponibili, preparati, ambienti puliti e luminosi. Insomma, la scuola da scegliere per i vostri prossimi 5 anni scolastici.